la season 5 è arrivata ok ragazzi io ancora devo provare nulla di questa season non vedo l'ora di andare in game vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanellina e per la nuova season ragazzi almeno di raggiungere i 2000 like a questo video ora ragazzi andiamo da scoprire assieme senza perdermi in chiacchiere quello che andrei a fare comprare il pass battaglia io direi di comprarlo e poi di vedere effettivamente cosa ci dà vai vai confermo tutto confermo tutto oh così mandalorian questo molto carino questo molto carino ovviamente ragazzi inutile che ve lo dico se comprate il pass battaglia utilizzate solo e solamente il codice creatore fortù tra l'altro se mi taggate in una storia in cui mi fate vedere che comprate il pass battaglia col mio codice creatore fortù vi riposto quindi fatelo ora facciamoci un giro veloce del pass battaglia bruttino cosa dovresti essere sei assolutamente insipida tu sei figo tu sei veramente molto figo e vabbè ragazzi impazziti che cos'è sta roba pazzi furiosi e tu cosa mi rappresenti oh mio dio oh mio dio state scherzando ragazzi è fantastico ok devo finire questo pass battaglia e va bene quindi direi di farci il primo game ragazzuoli ok ragazzi prima volta in game ho paura di vedere la mappa vedo cose molto particolari c'è lazy c'è raider ok c'è solo quella zona centrale diversa uh esploriamo sta zona no 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 questo è salty springs raga hanno fatto il mashup di salty springs con tilted towers hanno seriamente messo assieme tilted towers e oh mio dio oh mio dio ragazzi questo palazzo oh mio dio questo palazzo state scherzando stanno scherzando ragazzi oh mio dio ok ok non è tilted è salty towers salty towers ragazzi io non so che significhi ma c'è un towers salty towers ok prima kill prima kill nella stagione 5 se riesco va bene una kill pessima ma mai sinceramente interessava solo di portarmela a casa oh bello sto tizio che ci vuole raggiungere un attimo solo fra uh hanno rimesso il fucillare carica bello vabbè comunque la prima non conta allora no no una volta lo sapevo fare giuro a parte che sta la sabbia io pensavo fosse neve mamma mia no hanno rimesso il tac ma ma sono tutti impazziti in questa season è tutto così fantastico una mezza pinnacoli pendenti cioè io ti dico che è tutto fantastico ma cosa ti aspetti cioè è semplice farmi amare una season e tu lo stai facendo bene tu cosa vuoi dalla mia vita grazie sarei tentato di andare alla torre solo che ho paura che qualcuno già abbia lutato e non vedo l'ora di andare già nei palazzi di pinnacoli raga mamma mia che nostalgia veramente un tizio vuole farmi cadere però mi spiace quando io stavo a gioca e facevo cadere la gente diciamo che tu stavi probabilmente ancora giocando a non lo so minecraft probabilmente oh calmo carino sto tipo oh 50 devo chiudermi ah capo lo tengo all'arma scarica qualcuno lo fermi ah ciao va bene dimmi che avevi qualche arma più decente oh mitraglietta bella questa ok ok raga mi piace mi piace oh per ora è bello per ora è bello assolutamente c'è un altro tizio però vabbè salty towers potevo aspettarmelo in realtà ok è andato lì e non so sinceramente cosa stia sparando bro ok io però so cosa sta sparando lui ok una terra mi faccio un medikit al volo perché mi serve assolutamente un po' di vita perché sta arrivando pure un altro ok a posto ragazzi proprio come i bei vecchi tempi non ci si ferma un secondo eh ok questo forse era un bot però eh io la partita me la gioco tutta qua non me ne vado cioè mi deve portare via solo la safe io non ho intenzione di andarmene ah ragazzi sta arrivando la safe no non voglio andarmene uh parlando di ak oh oh calmi 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 questo che cosa ti fa volare dimmi che ti fa volare no cosa ha fatto credo che vabbè ripresti in vita tipo anche se no c'ho tipo non lo so delle schegge intorno e credo che siano bot però quelli ma cosa io sono confusissimo sono molto confuso sia dal fatto che quello sia un bot sia da quello che è successo utilizzando l'oggetto ok la safe oh muscerino levati consumiamolo e vediamo se ho capito cioè si raga vi fa teletrasportare tre volte per un tempo limitato però all'infinito vabbè OP vabbè è OP all'onnesima potenza tra l'altro un cavaliere nero viacce cavaliere viacce 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 ti preoccupare non è successo niente frate non so proprio cosa sia the mandalorian che fa? ah è il jetpack ok è un semplicissimo jetpack va bene è io che stavo cercando la cesta avrei dovuto provare a sparare alla bolla perché forse se sparavi ti buttava qualcosa addosso alla mo' di cubo qui ci sta un'altra zona non esplorata preferirei non entrare perché non le conosco come zone sta un tizio là io c'ho 13 bouncer serio? hanno aumentato il numero? ah bello certo che 41 è bugatissimo eh ok GG l'ho giocata male però siamo in 3 eh siamo pochi uh P90? serio bro? c'è P90 mi vuoi vedere proprio traiardare? vabbè ragazzi ce lo sta chiedendo il gioco eh io mi dissocio tra l'altro non sapendo dove sia l'ultimo non mi sento molto a mio agio cioè magari vado a meno a questo però poi l'ultimo devo capire dov'è no l'avevo quasi bloccato ma dai o comunque le bouncer da nerfare per quanto mi riguarda GG e allora manca l'ultimo no ci ho provato poteva essere voglio prendere l'appro giusto per vedere se magari sgambiamo qualche altro oggetto che non ho visto non lo so o simili non ho capito ancora che servivano i lingotti ma va bene uh calmo frate ah stava là ok ok diciamo che poteva essere più complicata questa partita e vabbè che fai non te la fai un'altra partitina ora uno youtuber intelligente si butterebbe nell'altra zona per scoprire qual è ma i vecchi sanno ragazzi che per fortoghetergamer c'è solo una zona in cui buttarsi ah ragazzi quanto è bello essere tornati guarda però mo calmi eh che mi sono lanciato malissimo a dirla tutta dovrei provare a entrare tipo qua vende ottimo inizio attenzione testa ok posso fargli male perfetto oh si stanno a mena fermi le kill sono mie dovete sapere ragazzi tutte le kill di pinnacoli sono automaticamente mie uh 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 c'è bisogno però eh no 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 ok ragazzi prima vittoria fatta lo so pinnacoli non è la stessa non è proprio pinnacoli però comunque mi dà un senso proprio di nostalgia di bei vecchi tempi quindi questa season nonostante non abbia capito bene tutte le meccaniche mi piace sinceramente mi piace ovviamente vi ricordo di shoppare il pass battaglia solo e solamente con il codice creatore forto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi ci becchiamo alla prossima ciao 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 ciao